Ciao a tutti ragazzi sono PeppeGiogamers e siamo in questo nuovo video Allora ragazzi sicuramente sentirete tantissimi Tantissimi di quegli sfunci di villici perché Beh Perché Perché guardate qua che cazzo ho combinato Il telecamera off Ecco sì E siamo tutti felici Allora ragazzi questo video più o meno è un video Così Dir la verità un po' cazzo Cioè proprio lo devo dire Con tutta la mia spontanea volontà Allora ragazzi Vi volevo dire Allora Ci domani giovedì Ci saranno le live Cioè non so Se C'è la fermi No diciamo allora venerdì Ci saranno Ci sarà una live Diciamo venerdì perché il video infatti si caricherà domani Quindi voi non avete niente il tempo di vederlo Ragazzi comunque spero che voi vedete questo video Perché poi venerdì Dovrò fare La live Nel senso che Io farò la live E anche il video Cioè farò sia il video Sia la live Però il video durerà 15 minuti La live durerà Potrebbe durare pure mezz'ora Un'ora Cioè io la live la posso far durare un giorno 24 ore Per di più la posso far durare Basta Cioè la posso far durare quando voglio In pratica È meglio Non drop Perché se no Qua Sti cazzi Allora ragazzi Spero che voi Ci abbiate la PlayStation 4 Così almeno Vi vedete le live Cioè ve la vede tutta Però Perché In pratica Un video più di Più di 15 minuti Non lo posso fare Però la live può durare Molto più di 15 minuti Ma molto Molto Ma molto Ma molto Ma molto Ancora Ma Vai ancora molto Cioè dura tantissimo Ragazzi Spero Che partecipiate Alla mia live Spero che voi Ci abbiate la PlayStation 4 E Spero In tutto Ragazzi Comunque Comunque Anche la live Sarà Sarà Su GTA E Basta Sarà su GTA Poi farò Altre live Per esempio Farò altre live Su Su Battlefield O Su altri giochi Non vi preoccupate Ragazzi La live La posso far durare Tantissimo Io vi aspetto Allora Uno che sicuro Parteciperà Vi ricordate In The Most Smile Sì Nelle live Si possono sentire Quindi spero che Riusciate a guardare La live Ben presto Ragazzi Arriveranno anche i gameplay Di 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 Get out of hell Se è un gioco Come è Ah Center of Vero Così si chiamava Vero Di Center of Get out of hell Che Praticamente Sono un diavolo Si farò La storia Poi arriverà Anche Il gameplay Della storia Sempre Di Battlefield Come vi avevo Già anticipato L'altra volta Poi ragazzi Vi ringrazio Dei 11 iscritti Vi ringrazio Quando vi iscrivete Mi fate Cioè Mi fate Proprio Mi fate Venire Proprio La voglia Di dire Portiamo Altri video Ai miei iscritti Se si divertono Facciamoli divertire No E quindi Io ragazzi Sono qui Per questo Per farvi divertire E anche Per Qualsiasi cosa Per quello che Cazzo Volete voi Poi scrivetemelo Nei commenti Qualche gioco Consigliatemi Qualche gioco Che poi Mi prenderò Ragazzi Voi Alcuni Dicono Mi mando I messaggi Che poi Mi dicono Che Porca vacca Perché non fai video Anche Sul computer Beh ragazzi Io Vorrei fare video Sul computer Ma tengo Un computer E tengo anche Una connessione Talmente di merda Che Non si può Quindi Mi dispiace Ragazzi Però Più Più In là Arriveranno Anche Tutti 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 Per esempio Scaricherò Minecraft Per il computer E farò Per esempio Vi dirò Le mappe Ragazzi Vi prego Vi prego Vi prego Ora A voi Che state Guardando Il video Vi prego Allora Io mi sono Comprato Un Samsung Galaxy S Google Vi prego Ditemi Come si fa A fare La videoclip Cioè Il video Stesso Del telefono Avete capito Cioè tipo Posso videare Un gioco Del telefono Come cavolo Si fa Non lo so proprio Perché Vorrei fare Un Tutorial Di Minecraft Pocket Edition E anche Su Pocket Inveditor Che Sarebbe Anche Di Minecraft E anche Su Mine Mine Maps Vi farò Vedere Come scaricarla E Vi dirò Anche Come scaricare Minecraft Gratis E Un consiglio Perché Minecraft Pocket Edition Per 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 Guardi il mio Video E Guardi il mio Video E Vi dirò Come prenderlo Gratis Ove ragazzi Spero Che Il video Vi sia Piaciuto Condividete Lasciate Un Bel Like Commentate Se Volete Commentare Iscrivetevi Fate Quello Che Cazzo Volete E Parabona E Ci vediamo Alla Prossima No Al Prossimo Video Stavo Dicendo Alla Prossima Puntata Infatti Mi sono Inceppato Un attimo Allora Ci vediamo Alla Prossima Puntata E Bella Raga Vi ringrazio Per il vostro Sbordo Bella Alla